Buongiorno, bentornati in un nuovissimo video Allora, sono intonuta molto casalinga Oggi sarà un video dedicato alle pulizie Perché me lo state richiedendo veramente in tantissimi Quindi, ho deciso di fare un video tra virgolette un pochino diverso Ovvero, magari chiacchiererò adesso Dopodiché magari mi vedrete direttamente all'azione Userò quattro prodottini per quanto riguarda la pulizia Andrò a pulire tutta casa, quindi spolverare Mettere a posto perché c'è un caos in casa Perché ieri abbiamo fatto tardi, stavamo sul divano Stamattina si è asciato presto, c'è giochi ovunque Non vi dico perché, ragazzi, credetemi, c'è una bomba in casa mia Ma vi farò vedere anche il retroscena Nel senso, vedrete anche com'è la casa adesso E come sarà poi dopo le pulizie Andrò a pulire tutta casa, quindi bagno zona notte e zona giorno E vi faccio vedere cosa uso Allora, ormai lo conoscete tutti perché ve ne parlo sempre Per spolverare utilizzerò il mangia polvere Questo qua dell'emulzio Che insomma mi ci trovo bene Questa volta ho la profumazione al fresco profumo Perché quello mio preferito alla vaniglia l'ho terminato Utilizzerò le mie classiche veline Quelle là, diciamo, della Vileda Che catturano la polvere benissimo Per i pavimenti Sto utilizzando in questo momento Che devo dire che mi sta riuscendo veramente, veramente tanto Il Rio Casa Mia Con ammoniaca Soberprofumata al profumo di talco Per la pulizia della cucina Sempre della linea della Rio Userò il Rio Mela Aceto Questo qui è uno dei miei prodotti preferiti Per quanto riguarda la pulizia della cucina Ma comunque questo si può utilizzare anche per i pavimenti Però io lo utilizzo per il piano cottura Il lavello Insomma, veramente per tutto Mobili e quant'altro E per la pulizia del bagno Il gel detergente bagno Quindi, valgo alle sciance 3, 2, 1 Via con le pulizie! Grazie a tutti! Grazie a tutti. 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 Ciao a tutti. Grazie a tutti. Sono partita. Grazie a tutti. Un bacio e ci vediamo.